Stai guardando scene di tutti i giorni con il cane e la gatta. Episodio di oggi. Linee di delimitazione Neato D7. Linee di delimitazione, nuova funzione che rende ancora più facile insegnare al D7 dove non andare. Insegnare alla gatta dove non deve andare? Non è così semplice. Neato. Intelligente, potente, connesso.